Mille terribili facce di una stessa violenza, verbale, psicologica e fisica. Una mattanza dei giorni nostri, frutto di una violenza che definisce il pieno fallimento di una società che non ha saputo cogliere i cambiamenti del mondo delle donne degli ultimi 50-100 anni. Tante le iniziative anche a Latina nel giorno per l'eliminazione della violenza sulle donne che si sono svolte durante tutto l'arco della giornata. La Polizia di Stato, da sempre impegnata su più fronti in questo delicato ambito, ha organizzato diverse iniziative sul territorio. Nel campo della campagna permanente Questo non è amore. Un camper itinerante in vari luoghi della città per favorire momenti di incontro, agevolare e promuovere un contatto diretto con le potenziali vittime. Tra il 24 e il 26 novembre il camper ha fatto tappa, oltre che a Latina, anche ad Aprilia, a Sabaudia e a Formia. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 109 morti, 8 morti in più rispetto all'anno precedente. In provincia di Latina sono state denunciate 354 persone per reati di violenza di genere e arrestate 44 persone per reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La Polizia di Stato è impegnata costantemente vicino al cittadino, alle donne, per denunciare in qualsiasi istante questi gravi fenomeni. Il nostro messaggio è di non accettare mai neanche uno schiaffo, neanche una stretta troppo forte. Non bisogna sopportare e perdonare questi comportamenti, ma bisogna denunciarli. Uno schiaffo, anche uno solo, non è amore. E poi ci sono anche le associazioni, le case rifugio, che continuano da sempre a dare supporto a tutte, figli compresi, perché la donna possa tornare finalmente ad avere stima di sé, possa tornare a lavorare, a vivere e a amare.